Ciao ragazzi, continuiamo il tutorial. Andiamo a definire un po', andiamo un po' a fare un po' di particolare, un po' di particolare. Allora, geometria, dividiamo, portiamo a 3, poi andiamo a prenderci il pennello Crumpel, poi Z sub, bastiamo l'intensità, portiamo la 7, mettiamo il pennello. Allora, indietro. Ok. Stroke, ora siamo attivo. Allora. Allora. Così andiamo a rendere un po' più ruvido, un po' più ruvida la pelle. Un po' più ruvido, un po' più ruvido. Un po' più ruvido, un po' più ruvido. Ok. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ora passiamo al pennello, abbiamo premuto il tasto CTRL e mascheriamo. Grazie a tutti. 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 Passiamo al pennello. Contro premuto. Mascheriamo. Mascheriamo. Grazie a tutti. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. A questo punto. Buon appetito. ok direi che ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti